Bene, ringraziamo padre Agostino, è arrivato il momento di invitare, lo vedo già seduto a fianco a me, il caro, amatissimo, stimatissimo, professore, avvocato Italo Ritorta, che si è portato anche il cane, non so se lo sentiamo abbaiare. Eh, l'ho messo fuori alla conferenza. Bene, il cane ovviamente si chiama Rex, anche lui, come avete fatto a capire. E poi, tutti i cani degli avvocati si chiamano Rex, da questo punto di vista non è che siete molto originati. No, veramente, quella è stata mia moglie che l'ha messo il nome Rex, io volevo mettere il nome Ciccillo. Eh, bel nome originale, anche quello. Ma perché, lo dico a cosa dice, non ce l'ha capito. Bene, avvocato, gentilmente, passiamo al dunque, perché siamo in un momento, innanzitutto voglio ringraziare i ringraziamenti che mi fate dopo. Fatemi introdurre il momento cruciale di questa discussione, perché credo che siamo verso il tempo secondo i greci, il tempo è Dio, il tempo è l'uomo, e poi ci sono i pensieri. Eh, i pensieri sono molto bravi. Eh, bene, avvocato, allora iniziamo subito. Grazie, 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 e come potete sentire, e scusate, ho mangiato un po' pesante, quella mia moglie ha fatto la, ha fatto la lasaggia. Eh, avvocato, ma non si fa il carnevale? Eh, ma quella mia moglie sbaglia sempre, quella ha messo il calendario sotto in coppia, non si capisce quando è Passo, quando è Natale, chi l'ha fatto la Passo, chi l'ha fatto il brodino di Natale, non si capisce niente. Va bene, avvocato, per favore, poca vita privata, teniamoci ai temi dei grandi poeti, dei grandi filosofi. Eh, e voi, perché mi chiamate, io sono l'esponente massimo di questo grande intellettualismo italiano. Eh, avvocato, però, anche lei, stay on the track. Eh, mi sono andato a fare questo track qui. Sì, pure l'avvocato, no, mi chiamiamo il professor Michele Prima, che vuol dire a me, beh, Italo, ma che è questo track? Ci fatti, ma che è stato il track, questo track, 4 anni. Eh, il professore track è, è, è praticamente, è in inglese, cioè stare sul tema, stare dentro alla conferenza. Eh, è come stare dentro alla conferenza, io non sono accettato. Ma qual è un problema? Io non vi capisco, va bene. Comunque, innanzitutto, inizio, eh, avvocato, inizio. Allora, innanzitutto, io ringrazio tutti i qui presenti, vedo la sala gremita, ci sono anche esponenti della musica pop italiana, della musica rock italiana, e di tutta la musica italiana, classic, jazz, bebop, ad rock, e chi ne ha più ne mette, siamo tutti musicisti, perché la musica fa diventare happy, assolutamente quella bella canzone. Avvocato, per favore, veniamo al dunque. Ah, io, veniamo al dunque. Io vi sono preparato degli appunti, allora, vi prego, ci sa l'interprete, perché se volete, posso anche farlo in inglese. No, avvocato, c'è la piacenza, non è proprio... Perché, dubitato del mio inglese, do you dubbate, oppure mai... I'm sorry. Avvocato, ci avete anche un po' di tosse, come mai? Che è successo? Iam, andiamo avanti. Allora, siamo in un momento cruciale di questa discussione, di questa conferenza, perché la questione del tempo viene affrontata sotto due grandi aspetti, il tempo è Dio e il tempo è l'uomo. Agostino stesso, prende in giro, così potrei dire, antelitteram, infatti, Agostino ancora era arrivato, citando un adeduto, che cosa faceva Dio, prima della creazione, si preparava una mazza, si preparava anche a chi era posto. Eh, professore, avvocato, scusate, ma chiede che gli aveva posto questa domanda. Eh, gli si ha già visto un filmino e siete stati proprio voi, ha fatto questa domanda. Avvocato, ma scusate, ma come fate a sapere questo, se questa cosa... Eh, allora, chi l'ha appiccata a mazza e ve l'ha radegato. Eh, avvocato, ma allora? Eh, andiamo avanti con la conferenza. Uno degli elementi innovativi della metafisica agostiniana e della creazione è precisamente questo. Il tempo non c'è, precisamente, non solo come la dimensione dell'essere dell'uomo finito, della creatura finita. Così come l'eterno è il suo modo di essere dell'assoluto, del divino, così il tempo è il modo di essere della creatura, della contingenza, della diligenza, e la corriere che passa e la casetta, che arriva a Dio. Eh, avvocato, però, per favore... Scusate, è stata un'improvvisazione musicale. Eh, avvocato... Da un lato Agostino innova sulla concezione greca, ah, proprio sull'iriscia, a me ha un formaggio greco, a me c'è questo problema. Eh, avvocato, per favore... Se ci pensiamo, c'è una bella definizione platonica, eh, di cosa sia il tempo, immagine mobile, eh, chi lo ha mai sentito? Eh, poi forse tu tieni un riloche, tieni un schuocci là, ti hai cattato un padecco, Filippo. Poessore, che ha comprato? Poessore, ci troviamo in pieno medioevo, alto medioevo. Eh, chi l'era altro? Chi l'era un metro e ottantacinco, teneva un marone di rilogio, un coppo e un braccio, e portava loro, diceva, eh, che ore sono? Diceva, diceva, Agostino, io non so che ore sono, perché io sto nel tempo. Eh, 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 avvocato, e che cosa ha risposto Tommaso? Questo non sta bene con la testa. Bene, avvocato, gentilmente, andiamo avanti. Tutto torna, tutto si ripete in questo ciclo, in cui, platonicamente, ciò che avviene nel mondo, avviene solo in quanto partecipe dell'Eterno, con l'idea, Agostiniana, la radice biblica di creazione, l'innovazione irrompe, 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 e rirrompe nel pensiero europeo. Cioè, questo tempo ciclico che ritorna, classicamente greco, è quello che si ha nel mondo della storia. Dove, l'uomo inizia, inizium utessit creatus est. Come lo vogliamo tradurre, questo utesset, per essere un inizio, perché si desse l'uovo, oggi avevo pure la maionese dentro. Avvocato, però, stiamo su, citando, avvocato, stiamo facendo una citazione molto, lasciatevi parlare, mi sto liberando di tutta la mia cultura latina, che ho studiato all'università, la Federica II. Il canale biblico, che entra nel pensiero occidentale, dell'essere, sostanzialmente, un avvenire, un partecipare, che della creatura, ha una, genesi continua, dice Agostino. Che cos'è l'eternità? non è un tempo senza fine, ma è un presente di Dio, così come il nostro presente è il modo del nostro esserci, qui ed ora, precisamente, e, essendo il nostro modo, il nostro esserci finito, questo ora, è un'ora che passa, e, questo vuol dire che il tempo fluisce, non resta, e invece, l'odernum, tum, l'oggi di Dio, il presente di Dio, è stanza, e infatti, dicevi tu, tu dicevi, a che stanza sai? Dicevi, no, quella è l'istanza, hai fatto la domanda per iscriverti, no, quella? Avvocato, per piacere, andiamo avanti, ma quella stanza? non ce la faccio a fare più queste conferenze, ehi, però mi avete chiamato, quindi vuol dire che, praticamente, intellettualmente, sono preparato, vado avanti, il presente è eterno, questa definizione, l'eternità, che è, interminabili svite, totas simule e perfetta possesso, vale a dire, il possesso, il godere, simultaneo, e completo, pieno, di una vita, interminabile, tutta qui, e tutta ora, tutta data, che non sfugge mai, che non passa mai, e questo è il rapporto tra l'eterno e il tempo, o il tempo da punto di vista di Dio, bene, scusate, facciamo un attimo coffee break, e un bello caffè napolitano, grazie, bene, grazie Avvocato, anche se, frammentariamente, è il parà, che, grazie, 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 Grazie.